Nel senso che qualunque strumento che può essere utilizzato per aiutare ad aumentare gli stipendi, che obiettivamente in Italia non sono al passo... In tutti i monti, nella maggior parte dei settori rispetto ad altri paesi, diciamo, siamo molto indietro, assolutamente, siamo molto indietro. Ma contemporaneamente, correttamente, insomma, non possiamo immaginare che lo Stato intervenga sempre e comunque con una tassazione pesantissima per le aziende. Soprattutto in un momento come questo, noi non possiamo dimenticare che, sì, è vero, prima facevate riferimento ai dati del PIL, ma il tipo di economia verso la quale l'Italia sta andando, verso la quale il mondo sta andando, sarà un'economia profondamente diversa. Noi avremo, e abbiamo già oggi, dei settori che sono fortemente penalizzati e settori che vanno invece verso un ampliamento fortissimo. Penso, per esempio, a tutti quelli tecnologici, penso al green. Quindi c'è un cambio epocale del sistema economico italiano e ovviamente globale. E quindi noi dobbiamo essere pronti per questa sfida. Non possiamo continuare ad immaginare soluzioni vecchie per problemi nuovi. Mi permetta solo di dire che, insomma, noi abbiamo un Ministro del Lavoro, Orlando, e che applica a una fase completamente diversa rispetto a quella pre-pandemica e comunque, insomma, degli ultimi dieci anni, applica delle politiche che sono politiche stantie. Noi dobbiamo avere il coraggio, finalmente, di rivedere i sistemi nel loro profondo senza essere legati alle abitudini che abbiamo portato fino ad oggi. Ai vecchi paradigmi, bisogna avere il coraggio di vedere, di guardare al futuro, ma sul serio, non soltanto a parole. Vabbè, poi giustamente voi fate il vostro lavoro di opposizione, facciamo così, breve replica da Borghi su questo e poi devo tornare da Alessandra Ghisleri. Borghi, qui si dice, siccome tutto cambia e cambia con una rapidità sconvolgente, bisogna trovare strumenti innovativi, nuovi. Adesso non voglio usare la...